Di Tommaso Gregni, poco più di un mese e mezzo alle elezioni amministrative di Ispica, il clima rovente di questi ultimi giorni non ha di certo contribuito a surriscaldare l'ambiente politico, anche se il comizio di Innocenzo Leontini ha richiamato in piazza dell'Unità d'Italia tantissimi cittadini curiosi di sentire il punto di vista di uno dei quattro candidati a sindaco. Voglio dedicarmi alla mia Ispica. La mia elezione a sindaco di Ispica non vuole essere un trampolino di lancio, né per diventare deputato alla Regione, né alla Camera, né al Senato, né al Parlamento europeo. E' stato chiaro l'On. Innocenzo Leontini domenica scorsa nel comizio di apertura della campagna elettorale per le prossime amministrative di ottobre. In una piazza aggrimita ma composta, seguendo le norme anti-covid, il candidato a sindaco ha parlato a lungo, elencando molte cose fatte nel corso della sua carriera politica, sia per Ispica che per la provincia di Ragusa e la Sicilia. Chi dice che Leontini non ha fatto nulla per Ispica lo dice in mala fede. Non poteva mancare il riferimento alla sua vicenda giudiziaria archiviata a pieno titolo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Così come non è mancata ovviamente la stoccata all'attuale sindaco Pierenzo Muraglie, al quale ha coniato una frase. Se è stata inutile la sindacatura, a cosa serve la ricandidatura? Leontini ha puntato il dito contro Muraglie dicendo che sono trascorsi gli ultimi cinque anni senza aver fatto nulla di quello che aveva promesso agli spicesi, non rispettando ciò che era nel suo programma. L'ex eurodeputato ha anche indicato alcuni punti importanti nel suo programma che dovrebbero essere il volano per la ripresa di Ispica, primi tra tutti la valorizzazione di Cava Ispica e della zona costiera. Ispica, secondo Leontini, in questi ultimi cinque anni invece di andare avanti è tornata indietro. Se si dovessero rivedere le condizioni che portarono Ispica ad ottenere il titolo di città, sicuramente oggi con le attuali condizioni saremmo retrocessi e torneremmo al titolo di semplice paesino come tanti. Ispica ha perso ciò che aveva conquistato a fatica grazie alla lungimiranza e ai sacrifici di validi amministratori del passato. Oggi, ha continuato Leontini, dobbiamo ricominciare a rimboccarci le maniche per riportare Ispica a fiore all'occhiello della provincia eblea. La campagna elettorale sta quindi per entrare nel vivo e adesso, dopo quello di Leontini, si attendono ai comizi degli altri candidati, primo fra tutti quello dell'attuale primo cittadino Muraglie, di Antonello Calvo e Guido François.